1, 2, 1, fai! Ricordi! Grazie a cercare! Buona corsa, buona passeggiata! Buona tutto! Ci vediamo all'arrivo, vi aspettiamo con i mondoloni alla trema! Lui ha rallentato perché siete amici Evviva Cesena, evviva la stra Cesena Evviva la Romagna Le persone che aiutano il reparto in questo modo E' molto importante, il reparto è per la città e la città risponde al reparto E quindi il ricavato di questo sforzo organizzativo E questo sforzo fisico dei corridori organizzativo di chi ha organizzato Avrà un concreto riscontro per le famiglie dei bambini che sono ricoverati Per cui ringrazio tutti, è veramente una città che risponde molto bene sempre Grazie a tutti Grazie dottor Stella, grazie ancora a tutti gli organizzatori della stra Cesena Perché correre va bene, lo sport va bene Ma se lo fai per bene, cioè per beneficenza Per far del bene a qualcuno è ancora più bello Applausi a tutti voi, grazie E viva la Romagna E viva il San Giovese E viva la Romagna E viva il San Giovese Stra Cesena è ripartita Grazie Fatevi un applauso soprattutto anche chi ha organizzato questa stra Cesena Questa ripartenza dopo il periodo difficile Ci siamo, ci siamo, ci siamo Sìììì Grazie a tutti